buongiorno a tutti ragazzi oggi io mi sono un nuovo youtuber che mi chiamo carmelo lombardo il mio nome sarà il mio nome sarà in questo canale youtube akira 99 sono felice di questo canale e adesso vi farò vedere tutta la mia casa questa qui è solo una parte perché non posso farvela vedere tutta forse un altro video perché adesso mia madre e mia sorella mi scoprissero soltanto una cosa io farò un video a non finire 18